Allora il direttore convocò i suoi collaboratori, mettendoci al corrente della telefonata, e aggiunse che lui sarebbe salito al Bayon per assistere all'apertura dello scarico ed anche alla caduta della franga, che sembrava imminente. Rivolse poi a noi l'invito a salire al Bayon, perché avremmo visto cose interessanti. Gli altri accettarono subito e neanch'io avrei avuto nessuna esitazione a salire, ma rimasi per alcuni secondi interdetto e decisi di rimanere a sovente. Bentornati alla serie dedicata alla memoria del disastro del Bayon. Nel primo episodio, disponibile al link in descrizione, trovate maggiori informazioni sulle dinamiche del disastro. Ora, come di consueto, è il momento di dare la parola alla voce del Bayon. Superstite del disastro, all'epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di vice capo della centrale e dell'intero reparto di Soversene. Signore e signori, abbiamo l'onore di avere con noi oggi il perito industriale Luigi Rivas. Benvenuto Luigi, come stai? Direi abbastanza bene, grazie. Ovviamente in rapporto all'età. Luigi, tu nel 1951 vinci il concorso per entrare a far parte della Sade e all'epoca del disastro del Bayon avevi 30 anni. Ricoprivi il ruolo di vice capo della centrale di Soversene e dell'intero reparto. Ci spieghi quali erano i tuoi compiti e le mansioni svolte dal tuo reparto in relazione all'impianto del Bayon? Al reparto di Soversene era affidata la gestione di quel complesso sistema di impianti idroelettrici realizzati dalla Sade ed è nominato Piave Boite Mevayont dal nome dei corsi d'acqua dove sono poste queste dighe. Impianti che sono situati nelle Alpi Nord-Orientali, in provincia di Belluno. Nel dettaglio, Belluno, il Piave, Longarone con di fronte la diga del Bayon, che è in Friuli perché il confine con il Veneto passa tra la diga e il Piave. Questo sistema idroelettrico è composto tra l'altro da 6 dighe per raccogliere sia l'acqua del Piave a Pieve di Cadore che quella dei suoi affluenti di destra e di sinistra, come evidenziato in questo bel mosaico planimetrico. Acqua che con reticolo di 60 km di Valérie veniva e viene convogliata alla centrale di Soversene allora la più grande d'Italia. L'importanza del Bayon derivava essenzialmente dal grande volume di invaso, quasi tre volte quello degli altri cinque laghi, e anche perché era previsto che vi entrasse non solo l'acqua del bacino in brifo del Piave, ma anche quella del contigo bacino del Cellina. E per questo collegamento erano previste le due gallerie evidenziate in coda al lago che all'epoca erano già state in parte scavate. I lavori per la costruzione di questi impianti durarono più di vent'anni, con grande impiego di mano d'opera. Ma durante i lavori, purtroppo, morirono più di cinquanta lavoratori, dei quali sei al Bayon. La direzione di questo sistema era Soversene ed io, come hai premesso nella domanda, ne ero vice direttore. Abbiamo visto che nel sistema idroelettrico Piave-Boite-Maeva-Jont, gestito dal reparto di Soversene, ci sono addirittura ben sei laghi artificiali. Qual è la funzione di questi laghi creati da altrettante dighe? La funzione dei laghi artificiali è quella di raccogliere e immagasinare l'abondanza d'acqua che si ha nei fiumi in due periodi dell'anno, e cioè in primavera con il disello delle nevi e in autunno con le forti piogge. Riserva d'acqua che fa aumentare la produzione di energia elettrica alimentando le centrali, quando scende verso la pianura, dove viene poi utilizzata per incrementare la resina agricola. Il diagramma mostra anche come, nei mesi estivi, l'agricoltura necessita dell'acqua immagasinata negli laghi, quando i fiumi hanno portata ridotta. Mentre nello schema si vede come l'acqua del Piave, la valle di Soversene, dopo aver alimentato ben 12 centrali più o meno grandi, viene consegnata ai consorzi irrigui che la distribuiscono ai tanti piccoli e grandi imprenditori agricoli. E allora, ci aiuteresti a comprendere quale sarebbe stato il ruolo dell'acqua del Vaillant in relazione agli impianti già esistenti e perché è diventato il grande Vaillant? E per questo occorre rifarsi alla situazione dell'epoca, e cioè nel secondo dopoguerra, quando, per soddisfare la ripresa economica, aumentava la richiesta di energia elettrica. Energia che era prevalentemente di origine idraulica, perché quella termica era prodotta solo con centrali a carbone, che era quasi tutto di importazione. Da qui l'opportunità di costruire, oltre alle centrali idroelettriche, anche delle dighe dove immagazzinare, come abbiamo già visto, il surplus di acqua nei due cicli annuali di piena. E per la costruzione delle dighe, lo Stato erogava contributi a fondo perduto, che raggiungevano anche il 50% del costo della diga, se l'acqua di questi bacini poteva essere utilizzata anche per fini rigui. Eppure il Vaillant ha usufruito di questi contributi. C'era quindi la necessità per tutte le società elettriche di cercare siti adeguati dove costruire dighe. E anche la Sade, che allora aveva la concessione delle acque, dei bacini imbriferi del Piave e del Contigo Cellina, con i quali già alimentava l'irrigazione di parte delle pianure del Trevigiano e del Pordelonese, cercò in queste vallate di siti adeguati. Nel bacino del Piave, l'unico sito disponibile era il Vaillant. Mentre in quello del Cellina, dove esisteva solo il lago di Barchis, ma di capacità ridotta, c'erano altri siti. E allora la Sade, invece di costruire un'altra diga sul Cellina, decise di alzare la diga del Vaillant, per creare un volume sufficiente sufficiente a contenere anche le acque dell'alto Cellina e dei suoi affluenti, acque che sarebbero poi state rese allo stesso bacino. Le intenzioni della Sade sono ben evidenziate in questa sua cartografia dell'ottobre del 1960. Nasce così, nel 1957 il progetto del grande Vaillant in sostituzione del piccolo Vaillant. Nella tabella il raffronto tra i due progetti e il loro rapporto con il lago di Pieve di Cadore. Merita puntualizzare che nel Vaillant sarebbero entrate oltre all'acqua del suo bacino imbrifero solo quelle dei due affluenti di destra del Piave, e cioè del Boite dalla diga di Vodo e del Maè dalla diga di Ponte 6, perché posti a quote superiori a quella del Vaillant. Come indicato nel profilo altimetrico e nella già vista planimetria, l'acqua da Vodo dopo aver alimentato la centrale di Ponte 6 si unisce a quella del lago di Ponte 6 per alimentare la centrale della Cardona e poi confluire nel Vaillant. Poiché per problemi di quote l'acqua dei laghi di Valle di Pieve non sarebbe potuta entrare nel Vaillant, l'apparatoia 20 veniva mantenuta a chiudere. Quest'acqua passava per il Ponte Tubo e a Valle dello stesso si univa a quelle che uscivano dal Vaillant per la centrale del Colombert e per l'apparatoia 23. Quali erano i compiti assegnati al reparto di Soverzene per l'impianto del Vaillant in generale e in particolare il 9 ottobre 1963? Prima di entrare nel merito della tua domanda è necessaria una premessa e cioè come veniva gestito e controllato il Vaillant. In altre parole chi e come decideva di quell'impianto possiamo capirlo dall'organigramma che mostra le due strutture che interagivano con il Vaillant entrambe dipendenti dalla direzione di Venezia. Il servizio costruzione idraulica che aveva progettato e costruito la Diga e il servizio idraulico al quale sarebbe poi passata la sua gestione quando il tutto fosse stato collaudato. In attesa del collaudo definitivo erano state passate al servizio idraulico e quindi al reparto di Soverzene la gestione di alcune strutture poste in sotterraneo nelle rocce a fianco della Diga, le gallerie colorate avevano acqua in pressione mentre le altre erano dei passaggi per accedere ad i bunker che contenevano varie strutture di carattere elettromeccanico come delle paratoie e la centrale del Colombert mentre all'altro servizio erano rimasti il controllo delle opere in superficie e cioè la Diga la Frana e il livello del lago oltre ai rapporti con le istituzioni genio civile servizio dighe prefetture di Belluno e Udine e Sindaci in questo modo al Bayonte erano ben chiare distinte le responsabilità e i compiti dei due servizi dove ognuno operava con proprio personale l'unico punto di contatto tra i due servizi era la variazione del livello dell'acqua che veniva decisa dal servizio costruzione idraulica e cioè da Biadene che per la sua attuazione la demandava al reparto di Soverdene dove come indicato dalle frecce ci perveniva per via gerarchica arrivando poi sul mio tavolo perché questo era uno dei miei compiti e ora vengo alla tua domanda cosa ha fatto il reparto di Soverdene per il Bayont il 9 ottobre quel giorno il nostro impegno era gestire il livello del lago che nell'arco delle 24 ore doveva scendere di un metro e venti e cioè di 5 centimetri all'ora come ci aveva richiesto Biadene per ottemperare alla sua richiesta avevo programmato questo movimento di acque attorno al Bayont programma che poi passai al capiturno della sala controllo posto a fianco della sala alternatori perché loro lo attuassero dando le opportune disposizioni al personale della Gardona e del Bayont in sintesi per abbassare il lago di 5 centimetri all'ora dal Bayont dovevano uscire le due portate inietrata e cioè la naturale del suo bacino imbrifero che era di 2 metri cubi al secondo e i 9 dello scarico della Gardona e anche il volume d'acqua corrispondente ai 5 centimetri di quota da abbassare per un totale di 45 metri cubi 15 per la centrale Colomber dove generavano la potenza di 5000 kilowatt e 30 per la paratoia posizione 23 la cui energia veniva dissipata parzializzandone la stessa a questi si univano i 40 provenienti da Pieve che come abbiamo già visto sorpassavano la diga passando per il ponte tubo per un totale di 85 che venivano immessi nella galleria verso Val Gallina pochi su Erzene ne utilizzava 83 gli altri due venivano accumulati nel lago di Val Gallina con questa impostazione l'orvaso del Bayont proseguì come da programma fino alle 18 quando tutto cambiò ma di questo penso che ne parlerò dopo avvicinandoci al giorno del disastro era presente una sensazione di pericolo tra il personale Sade e Enel in particolar modo quello operante presso la diga a suo Erzene sapevamo dell'esistenza della Fran dai colleghi che al Bayonta ne controllavano i movimenti come ripropongo nel solito organigramma con le rispettive responsabilità e negli ultimi giorni ci dicevano che oramai la sua caduta era imminente ma per loro non c'era nessuna particolare sensazione di pericolo anche perché i geologi avevano previsto che sarebbe caduta a fette e quindi di riflesso anche per noi a suo Erzene non c'era motivo di preoccupazione abbiamo cominciato ad interessarci della frana e delle sue conseguenze verso i primi di ottobre quando ci venne chiesto di installare due fari sulla sponda destra per seguire anche di notte i movimenti della frana ci venne anche chiesto di proteggere il personale nel caso l'ondata fosse stata superiore al massimo previsto dalle prove fatte sul modello idraulico del Bayonta da queste prove risultava che con la quota del lago di 20 metri sotto il massimo livello non ci sarebbero stati problemi anche con il più catastrofico prevedibile evento di frana e questo non tanto per chi stava negli alloggiamenti posti qualche metro sopra la diga quanto per quelli che operavano nella cabina comandi a livello del coronamento infatti la prevista ondata avrebbe trovato difficoltà a risalire le sponde frastagliate sotto gli alloggiamenti mentre impattando contro il paramento della diga liscio e curvato verso valle sarebbe risalita fino a interessare la cabina comandi e allora per chi stava nella sala controllo venne predisposta a una via di fuga che passava per il locale dei servizi genici dove vennero tolti gli infissi della finestra e fatta una passerella per accedere alla stazione elettrica ritenuta luogo sicuro a questi miei ricordi della mancata sensazione di pericolo per la caduta della frana ritengo opportuno confermarli indirettamente con due episodi documentati il primo è relativo alle ultime ore di vita del Vajont che inizia alle 18 negli uffici di Sovertet quando Bertotti riceve una telefonata dalla sua direzione di Venezia per informarlo che Biadene aveva in programma di accelerare lo svaso del Vajont con l'apertura di uno scarico per mandare a valle della Diga 25 metri cubi d'acqua al secondo approfitto per rimarcare che nei documenti può comparire l'acronimo ASAC con delle cifre perché questa è la loro collocazione nell'archivio storico dell'Aquila dove si è svolto il processo nello schema sono indicate le due paratoie in serie dello scarico di leggerimento da predisporre per l'apertura l'ordine per la sua attuazione l'ho comunicato alla sala controllo del Vajont ed è stato anche l'ultimo mio contatto con loro e allora dalla sala controllo hanno ritenuto opportuno avvertire telefonicamente tre utenti allo sbocco del Vajont la McMarmy la cartiera e la trattoria Vajont e poi anche il vice sindaco di Longarone Arduini per informarli dell'eventuale grande persistente uscita d'acqua dalla forra del Vajont ma perché l'hanno fatto? La risposta è in questa foto che mostra come era la situazione allo sbocco del Vajont va ricordato che dopo la costruzione della Liga dal torrente Vajont era sempre riuscito poco più di un rigagnolo d'acqua e se quella sera e poi per la notte fossero usciti in continuità quei 25 metri cubi d'acqua che sarebbero stati un'enormità anche per il rumore si può immaginare lo spavento di chi stava allo sbocco del torrente per quanto riguarda il contenuto delle telefonate gli interlocutori e il Vajont sono morti tutti quella notte e dei quattro destinatari delle telefonate si è salvato solo Arduini che alla commissione ministeriale d'inchiesta ha riferito di aver avvertito la cartiera che non c'erano pericoli se dal Vajont fosse uscita tanta acqua ma di più lo sappiamo dalla deposizione della telefonista di Longarone che ha passato le telefonate e anche colloquiato con il telefonista della sala controllo del Vajont alla deposizione della telefonista ho aggiunto un appunto perché alla richiesta fatta all'operatore Indiga per sapere se ci fossero pericoli per Longarone Bertina Merlin e altri diventerà una intromissione della stessa in una presunta telefonata tra Vajont e Viadene perché nel suo libro così la riporta e anche qui ho aggiunto un appunto la Merlin non cita la fonte perché questa affermazione non c'è in nessuna deposizione delle telefoniste ed è quindi una sua invenzione a questo punto sono necessarie delle precisazioni intanto è la conferma che il Vajont non avevano particolari sensazioni di pericolo e che lo scarico d'acqua era volontario e fuori della norma ma del tutto indipendente dalla prevista caduta della frana se la frana fosse caduta come era nelle previsioni l'eventuale sfioro sarebbe durato una decina di secondi e l'acqua caduta nella forra sarebbe arrivata allo sbocco con una portata difficilmente percettibile in questo caso dal Vajont non avrebbero fatto alcuna segnalazione a valle va precisato che da Viadene non è arrivato l'ordine di apertura dello scarico infatti quando poi siamo entrati nella camera di manovra abbiamo trovato fatte le operazioni preliminari ma le paratoie erano rimaste chiuse ed ora vediamo qual era la sensazione di pericolo per Viadene e al Vajont pochi minuti prima della tragedia verso sera Viadene convoca un suo collaboratore l'ingegner Mario Ruol e dopo averlo messo al corrente della situazione della frana gli dice che all'indomani sarebbe salito al Vajont l'ingegner Battini del Ministero dei Lavori Pubblici ed era opportuno che ad accoglierlo ci fosse un dirigente dell'Enel aggiungendo che al Vajont non c'era l'ingegner Pancini perché in ferie ne li usa e che lui non poteva muoversi da Venezia ed allora vai tu ad accoglierlo dato che conosci la diga infatti Ruol era stato il vice di Pancini nella costruzione della diga e nel 61 terminata la costruzione era rientrato in sede a Venezia assumendo altri incarichi vorrebbe partire subito per il Vajont dove avrebbe cenato con i suoi ex collaboratori e anche dormito ma i familiari lo convincono a cenare a casa così parte tardi e il viaggio è tranquillo fino a Faè poco prima di Longarone dove deve fermarsi perché sulla strada ci sono dei detriti scende e alla luce dei fari vede anche dei cadaveri ritorna a Ponte delle Alpi e dal telefono del distributore di benzina mette al corrente Biadene di quanto ha visto la conferma che Ruol fosse atteso al Vaion quella sera si trova anche nella deposizione fatta alla polizia giudiziaria da Armando Fiabane telefonista presso il centralino di Belluno perché quello di Longarone chiudeva le 22 e questo è quanto ha riferito e sentito quindi al Vaion sapevano che Ruol era in arrivo da Venezia e da qui la loro preoccupazione di informare i carabinieri di Longarone che lo lasciassero passare al posto di blocco che avevano già istituito a Donia è un'ulteriore conferma che 14 minuti prima del disastro e quando la frana già dava vari segnali di una sua imminente caduta al Vaion non avevano nessuna particolare sensazione di pericolo Ho accennato prima al fatto che tu sia un superstite del disastro perché quella sera avresti dovuto essere all'interno della cabina comandi della diga del Vaion quale imprevisto ti ha salvato la vita? Il 9 ottobre a Soverde sapevamo che si avvicinava il momento di caduta della frana che però come abbiamo già visto non avrebbe creato particolari problemi E per noi della direzione che era composta da periti elettrotecnici il direttore Bertozzi e quattro collaboratori quel giorno è stata una giornata di lavoro come le altre dedicata alla gestione del complesso sistema idroelettrico del Piave Boite Maè Vaiont Mentre il nostro impegno era limitato solo a gestire lo svaso del lago di 5 centimetri all'ora questo fino alle 18 quando tutto cambiò perché Bertotti ricevette quella telefonata relativa alle paratoie di scarico Allora Bertotti convocò i suoi collaboratori mettendoci al corrente della telefonata e aggiunse che lui sarebbe salito al Vaiont per assistere all'apertura dello scarico e anche alla caduta della frana che sembrava imminente rivolse poi a noi l'invito a salire al Vaiont perché avremmo visto cose interessanti gli altri accettarono subito e neanch'io avrei avuto nessuna esitazione a salire ma rimasi per alcuni secondi interdetto e decisi di rimanere a soverdere perché la mattina dopo avevo due ore di insegnamento all'istituto tecnico industriale di Belluno e dovevo ancora completare la preparazione della lezione infatti da tre anni insegnavo impianti elettrici in quella scuola dove mi ero diplomato e dalla direzione di Venezia avevo l'autorizzazione a farlo anche durante l'orario di lavoro il direttore e i tre colleghi partirono e non più ritornarono perché al momento della caduta della frana erano o nella sala controllo della diga oppure sulla sponda opposta dove erano installati i fari che era la posizione migliore per vedere cadere la frana ci parleresti di come è vissuto quella notte alla centrale di Soverzene abitavo nella palazzina posta sul piazzale antistante la centrale e dopo cena mi concentrai a preparare la lezione per la mattina dopo mi ero completamente dimenticato del vaiont quando mi richiamò alla realtà un rumore indefinibile sempre più forte uscii sul piazzale e in lontananza verso l'ongarone vidi una banda di luce che avanzava era riflesso dalla luna il fronte dell'onda che scendeva lungo il piave solo allora mi ricordai del vaiont e intuendo l'enorme massa d'acqua paventai un possibile pericolo per noi che abitavamo pochi metri sopra il livello del piave rientrai in casa e svegliai la moglie e i figli per salire verso una zona sopraelevata ma arrivati sul piazzale mi fermai per guardare verso il piave da dove proveniva un rumore che diventava sempre più assorbante e quando l'onda entrò nella luce dei fari dello sbaramento questo mi apparve come una muraglia d'acqua e il fragore raggiunse l'apice quando le tre grandi paratoie del ponte diga centrate da tronchi d'albero vennero dirette rimasi fermo quasi impietrito non sapevo se scappare o continuare ad osservare l'eccezionale e tremendo spettacolo poi con l'innalzamento del livello dell'acqua degli spruzzi coinvolsero le linee ad alta tensione e gli ampi dei corti circuiti sui conduttori misero fuori servizio la centrale con il conseguente spegnimento delle luci questo mi riportò la realtà e allora raggiunsi gli altri in alto dove trovai oltre a coloro che abitavano a livello del piave anche altri di sovergine e del legge con alcuni di loro sedi sul piazzale della centrale per cercare di capire cosa era successo il rumore dell'acqua andava lentamente scemando fino quasi a cessare dal piave non arrivava alcun rumore e uno strano silenzio irreale inquietante era calato sui luci sulla statale di fronte a sovergine si cominciò a vedere passare in direzione di Longarone un sempre crescente numero di automezzi con i lampeggianti ma poi ci sospetti il fatto che erano rari i lampeggianti che scendevano da Longarone lo capimmo poco dopo quando verso mezzanotte con delle torce cercammo di arrivare al piave e infatti dopo aver passato il segno lasciato dal fango rimasto sulla strada vedemmo incastrato tra delle gname un corpo nudo che però non era intero avemmo allora la conferma che qualcosa di tragico doveva essere successo nei paesi a monte constatammo pure che la strada sopra il ponte liga almeno per il tratto che si poteva vedere era impraticabile perché sommersa dal legname all'alba si cominciò a liberare dal legname la strada sopra lo sbaramento e a iniziare la pietosa raccolta delle salve alcuni colleghi e degli abitanti di Suerdere furono veramente ammirevoli da prima operando da soli e poi collaborando con i vigili del fuoco è questa una parte del materiale accumulato davanti allo sbaramento con i vigili del fuoco alla ricerca dei corpi e come hanno scritto in una loro relazione un'idea di quello che poteva esserci sulla strada sopra lo sbaramento e l'altezza dei conduttori interessati dagli spruzzi tanti sono stati gli episodi di varia intensità che ho vissuto in quei giorni uno e di due giorni dopo quando notammo entro questa grande vasca a fiorare qualcosa di rosso avvertì i vigili del fuoco i quali scavando nella melma raccolsero un colpicino quando ci passarono davanti con questo in braccio vedemmo che era una bambina forse di 4 o 5 anni e il rosso era il colore dello stivaletto che calzava poi i giorni continuarono a scorrere nella normalità dell'emergenza emergenza che col tempo lentamente si attenuava anche perché veniva superata dai tanti lavori di riparazione necessari per far riprendere esercizio alla centrale e alle opere dello sbaramento danneggiate o addirittura distrutte erano lavori impegnativi che mi servivano completamente e così poco la volta anche i ricordi degli accadimenti di quei giorni della tragedia si allontanava pendendo sempre più a impalidire ma mai a sbagliere così questa intensa attività uniti anche alla ripresa dell'insegnamento che mi riportava a contatto con realtà diverse è stata per me un altro aiuto per rientrare gradualmente nella vita normale cosa è successo all'interno della centrale abbiamo visto cosa è successo all'esterno della centrale dove non c'era personale in servizio ma 500 metri all'interno operavano in cinque tre nella sala controllo e due nelle sale turbina ed erano completamente ignari di cosa era successo al bayon e all'esterno infatti per i tre in sala controllo anche il fuori servizio della centrale causato dal cortocircuito sulle linee ad alta tensione rientrava nella normalità dell'esercizio ma tre livelli più sotto nelle quattro sale delle turbine i due operatori vissero l'evolversi degli avvenimenti in modo diverso e anche con momenti di planico perché improvvisamente videro irrompere dal canale di scarico un anomalo e grande flusso d'acqua questo è successo perché le turbine sono collocate in altrettante sale indipendenti e tra loro collegate da dei tunnel alle cui estremità vi sono delle porte stagne ed è previsto che se in una delle sale per qualche motivo ci fosse una perdita d'acqua per evitare di coinvolgere nell'allagamento le sale contigue questa viene isolata con la chiusura automatica delle sue porte stagne e chi si trova in quel locale ha come via di fuga una scala a pioli che porta al piano superiore poi per far uscire l'eventuale acqua dalla sala turbine è previsto che sia l'acqua stessa a farlo rompendo la sottile parete di mattoni forati che dà sul canale di scarico ma quella notte la parete fu investita da un flusso d'acqua inverso da quello progettato era successo che l'onda di piena sul piave dopo aver superato il varamento aveva parzialmente ostruito lo sbocco della galleria di scarico della centrale e l'acqua scaricata dalle turbine non potendo tutta defluire nel canale di scarico si alzò di livello e rotta la sottile parete si riversò nei locali delle quattro turbine allagandoli al frastuono dell'acqua che rompeva si aggiunse l'allarme che segnalava la chiusura di tutte le porte stagne e mentre i turbinisti si aiutavano a vicenda a salire per la scala Pioli con l'acqua che continuava a crescere intervenne il fuori servizio generale che fermò le turbine un cartello ricorda a futura memoria l'avvenimento per molti anni hai deciso di tacere sulla tua esperienza personale al Vaillant cosa ti ha fatto cambiare idea dopo tanto tempo? tanti sono stati gli episodi di varia intensità che ho vissuto in quella notte dei quali raramente ne parlavo con altre persone questo fino a quando cominciò ad aumentare l'interesse dell'opinione pubblica sulla vicenda del Vaillant da allora a cominciare da alcune tipologie di libri ed ora anche dalla rete virtuale sono aumentate le ricostruzioni di alcuni fatti spesso immaginati che dimostrati anche perché quello che è accaduto in quella notte è visto in modo diverso da chi c'era e lo ha vissuto mi è perso allora necessario intervenire e dal 2010 lo faccio anche con dei libri e il cippo veneziano che ho messo su questa copertina dimostra che nonostante siano passati quasi 500 anni quel concetto espresso in diretto veneto è quanto mai attuale perché ancora oggi sono molti quelli che credono di raccontare la tragedia del Viont e pur sapendone poco o nulla sono disposti a giudicare ritenendosi degli esperti non per conoscenza acquisita con lo studio e il lavoro ma per scienza infusa l'obiettivo di questa serie di episodi di questo podcast è quello di parlare del disastro del Viont per farlo conoscere quanto più possibile e cercare di imparare dagli errori commessi affinché non si ripetano mai più quale pensi sia la maniera migliore di mantenere viva la memoria di questo disastro tra i vari aspetti che è necessario ricordare per tramandare la memoria della tragedia c'è anche quello umano e il miglior modo per ricordarlo è visitare il cimitero di Fortogna dove va ricordato che delle 1910 tombe un terzo di queste sono vuote perché i loro corpi sono spariti nella tragedia e poi c'è l'aspetto tecnico da cui trarre insegnamenti che è quello di ricordare la storia del Viont esponendo i fatti come sono accaduti avendo come riferimento dei documenti ufficiali che sono gli atti del processo e le relazioni delle due commissioni d'inchiesta la ministeriale e la parlamentare e nel raccontare i fatti si devono ricordare pure gli errori commessi di questi è opportuno fare una distinzione tra quelli evidenti dovuti alla volontà di completare l'impianto e altri che si potrebbero definire anche involontari va infatti ricordato che opere di questo genere sono figlie del proprio tempo oggi ci sono conoscenze scientifiche e strumenti tecnologici che allora non c'erano e che se fossero stati disponibili sicuramente avrebbero contribuito a dare un corso diverso alla vicenda un esempio è il controllo della frana che veniva fatto manualmente con strumenti ottici collocati su due basamenti distanti un chilometro e posti tra erzo e casso richiedeva l'impiego di due geometri e di due aiutanti per rilevare le coordinate dei 25 capisaldi posti sulla frana dati che venivano poi elaborati con notevole impegno utilizzando per i calcoli le tavole di logaritmi perché allora non esistevano calcolatori in definitiva occorreva mezza giornata di lavoro per conoscere lo spostamento della frana nelle 24 ore precedenti oggi con la tecnologia GPS controlli del genere si fanno in tempo reale e i risultati trasmessi a distanza grazie grazie davvero per essere stati con noi Luigi ed io ringrazio te anche per avermi data la possibilità di far conoscere alcuni aspetti della storia del Vaillant rievocati da un addetto ai lavori che allora c'era grazie per essere stati con noi vi rimando al prossimo episodio per approfondire una delle pagine più buie della storia del nostro paese saremo in compagnia di un nuovo ospite per ascoltare un'altra voce del Vaillant a Grazie per la visione!